Buon pomeriggio a tutti, 14 e 15 del 31 dicembre. Come sapete ieri non ho fatto, come ho detto, non ho fatto la diretta, sapete benissimo che è stata una giornata piuttosto impegnativa, ma avevo promesso di esserci oggi, anche se con un pochino di timore, perché sapete che le dirette del 31 dicembre sono fatte normalmente da persone ben più autorevoli di me, ma insomma è stato un appuntamento che abbiamo avuto in questi ultimi mesi quasi quotidianamente e mi faceva piacere poter salutarvi, farvi gli auguri anche quest'oggi, in questa giornata così particolare. Come al solito, prima di cominciare sapete che vi chiedo sempre di condividere questa diretta in modo tale da poterla allargare il più possibile, a quanti più nuovi amici ci riesce, ma soprattutto sapete che potete condividere, sempre schiacciando la stessa freccetta, anche il video che lascerò di questa diretta poi sulla pagina Facebook sulla quale ci troviamo, ma anche sul mio sito www.ivanscalfarotto.it e sul mio canale YouTube. Che cosa dire? Innanzitutto gli eventi recenti, diciamo così, siamo reduci da questa approvazione di questa cattiva legge di bilancio, una legge di bilancio cattiva nel merito, lo sapete, avete letto i giornali di questi giorni, sapete bene, per esempio oggi Repubblica approfondisce sul taglio di 4 miliardi per la scuola che è andato a colpire soprattutto gli insegnanti di sostegno e quindi quei ragazzi che a scuola hanno più bisogno di aiuto e di appoggio. Sapete che è una legge di bilancio che prevede delle incredibili clausole di salvaguardia per i prossimi anni, si sono già impegnati 23 miliardi per il 2020 e addirittura 29 per il 2021, bisognerà trovarli a costo di far salire l'IVA addirittura al 26,5% nel 2021. È come se avessero già fatto la manovra di bilancio già per gli anni a venire, prosciugandola completamente. È una manovra che colpisce la libertà di stampa. In queste ore state forse trovando anche su Twitter e sui social media i nostri interventi in aula a sostegno di Radio Radicale che sarà costretta alla chiusura insieme a molti altri giornali come il Manifesto, come l'Avvenire, come molte testate locali. E sapete che questo governo è stato un governo sempre molto severo con la libertà, diciamo con i giornalisti. Ricordate le uscite di Di Maio, di Battista, prostitute, pennivendoli. Insomma, non è un governo sicuramente amico della libertà di stampa, è un governo amico delle fake news, ma non della possibilità per i cittadini di farsi un'opinione. È una manovra di bilancio che ha rimandato le assunzioni dei vincitori di concorso a fine novembre, è una manovra di bilancio che introduce dei condoni fiscali. Insomma, basta leggere i giornali di questa mattina per vedere che in realtà, appunto, per difendere questi feticci della flat tax che poi non c'è, del reddito di cittadinanza per il quale sono stati stanziati dei soldi molto meno di quello che si prevedeva e poi comunque il reddito di cittadinanza ancora non sappiamo esattamente cosa sia. E la stessa cosa vale per quota 100, per cui non sappiamo quanto durerà, per quando entrerà in vigore, chi ne avrà diritto, se sarà possibile poi applicarla anche per più anni, perché questa è un'altra questione che abbiamo in piedi. Insomma, una manovra di bilancio che è stata veramente pessima nel merito e che secondo noi non contiene, per esempio, investimenti e quelle manovre, diciamo, e quelle misure che servono per far ripartire l'economia, per far ripartire il mercato del lavoro. Sapete bene che stiamo rientrando in una fase di recessione. I numeri che l'Istat ci sta dando per gli ultimi mesi sono numeri che ci hanno riportato in terreno negativo per ciò che attiene alla crescita economica del nostro paese e che loro ne dicano perché continuano a dire che la colpa è di quelli di prima. Ma in realtà noi sappiamo bene che questa scusa, come dire, va esaurendosi perché non potrà essere sempre colpa di qualcun altro. E già stiamo vedendo, per esempio, i nefasti effetti del decreto cosiddetto dignità, quello che noi chiamiamo il decreto disoccupazione, che sta impedendo le persone con i loro contratti di vederli, diciamo, reiterare, di vederli prorogare, perché gli imprenditori naturalmente sono molto cauti con una legge come quella che è scaturita dal decreto dignità che poi in realtà, rintroducendo le causali e irrigidendo, appunto, il meccanismo sta di fatto mettendo moltissime persone in difficoltà. Ecco, l'effetto di questa manovra di bilancio sarà più o meno lo stesso anche per ciò che riguarda gli aspetti più, diciamo così, macroeconomici per il nostro paese. Ma questa legge di bilancio non è stata soltanto, come dire, non è soltanto molto negativa dal punto di vista dei contenuti, è stata molto negativa anche dal punto di vista del metodo, perché, come sapete, avete seguito tutti l'iter di approvazione di questa manovra. Una manovra che era stata approvata in un primo tempo, diciamo, in una prima lettura dalla Camera, in una versione completamente farlocca. Cioè, sapevamo tutti che ciò che abbiamo approvato alla Camera in prima lettura non era la manovra, perché l'Unione Europea aveva annunciato l'apertura della procedura di infrazione e si sapeva che il governo, nonostante le smargiassate dal balcone o quelle di Salvini, in tema del deficit, il governo, una volta che la Commissione ha annunciato l'apertura della procedura di infrazione, il governo ha fatto subito macchina indietro ed è andato a trattare con l'Europa. Per cui la manovra che noi abbiamo approvato in prima lettura era una manovra che non esisteva, perché già si sapeva che sarebbe stata superata da qualcos'altro. Quel qualcos'altro è arrivato il 20-21 dicembre buttato in Senato in quel modo, addirittura arrivato in aula senza relatore, senza che si potesse discutere un solo emendamento. Quindi il Parlamento, sia con la lettura del Senato che poi con la lettura definitiva della Camera non ha proprio messo mano alla legge di bilancio e questo è un evento senza precedenti, perché in pratica la manovra di bilancio, la scritta del governo è esattamente come è stata scritta, è uscita dal Parlamento. È come se il Parlamento non ci fosse, come il Parlamento fosse stato completamente esautorato. Diciamo che il governo si è attribuito anche il potere legislativo. È una cosa di una gravità inaudita, tant'è che i nostri senatori hanno proposto subito un ricorso alla Corte Costituzionale che sarà discusso almeno per quanto riguarda la sua ammissibilità, quindi in via preliminare il 9 di gennaio, ne sapremo di più, però certamente è stata una cosa completamente innovativa. Uno svuotamento di poteri del nostro Parlamento che è stato fatto sotto gli occhi dei presidenti, la Casellati e Roberto Fico alla Camera, i quali hanno legittimato con un comportamento, diciamo così, abbastanza pilatesco tutta la vicenda. Devo dire che Fico si è segnalato per una parzialità notevolissima. Ricordo semplicemente, per esempio, quando c'è stato un momento nel quale era evidente che era stata richiesta una votazione procedurale e il Movimento 5 Stelle non c'era in aula, erano ancora a mangiare il panettone mentre noi eravamo in aula e si sapeva che se quel voto fosse stato effettuato la maggioranza sarebbe andata sotto. Fico ha trovato ogni modalità per, diciamo, rimandare il voto e poi sospendere la seduta in modo tale che quel voto non si facesse. Ha minacciato i nostri parlamentari, ha minacciato Enrico Borghi, un mio collega che è il nostro segretario d'aula, dicendogli guardi che non le faccio finire la seduta, cose mai successe, mai sentite. Ha avuto un atteggiamento incredibile. Devo dire a me non ha sorpreso, perché glielo ho anche detto in aula. Io non ho mai creduto a quelli, e sono tanti, che dicono che Fico è l'uomo di sinistra del Movimento 5 Stelle e rappresenta l'anima del Movimento 5 Stelle con la quale il PD dovrebbe fare un accordo. È una ricostruzione completamente fantasiosa. Fico non è un uomo di sinistra, Fico non è un uomo disponibile a fare accordi con nessuno, Fico è il più grillino dei grillini. Io ho avuto occasione di dirglielo in aula, non so se avete visto il mio intervento di un minuto che c'è sulla mia pagina Facebook, ma glielo ho ricordato. Io l'ho incontrato per la prima volta nel 2005 a Napoli e Fico stava già con Grillo a quell'epoca. Era un'epoca nella quale stare con Grillo non era conveniente. Diciamo, Fico non è uno di quelli che è andato con Grillo per avere un seggio in Parlamento. Fico è andato con Grillo perché credeva in Grillo e quindi, essendo stato il primo ad andare con Grillo, io penso che sarà l'ultimo a lasciarlo. E Fico è un ortodosso che gioca un ruolo ma è assolutamente funzionale a quello che è il progetto politico del Movimento 5 Stelle, che è quello di svuotare la nostra democrazia, di trasformarla in qualcosa di completamente diverso, in una democrazia cosiddetta diretta, in una democrazia plebiscitaria, anche questo gli ho detto in aula. loro vogliono trasformare il popolo italiano in quella massa indistinta, quella massa uniforme, alla quale si chiede volete Gesù o volete Barabba. Questo è il plebiscitarismo che loro ci propongono. Prendere i cittadini, metterli a votare su una scheda, su una questione magari super complessa e di fatto lasciar decidere a Davide Casaleggio quello che c'è da fare. Questa è la sostanza. E Fico si è comportato di conseguenza. Fico ha sostenuto tutto questo, tutta questa procedura, dicendo tra l'altro che non gli piaceva, perché poi fa sempre il gentile. Dice no, io non sono convinto di questa procedura, ce l'ha detto in aula, al che giustamente il nostro sempre Enrico Borghi gli ha detto scusi, se questa procedura non le piace, il suo compito è quello di parlare col governo e di difendere il Parlamento, dire che così non si fa. E lui ha detto, ah ma poi se non facciamo così, la legge di bilancio non riusciamo a approvarla prima del 31 dicembre e andiamo in esercizio provvisorio. Al che gli ho risposto io gridando dal mio banco che non era colpa del Parlamento se c'era il rischio dell'esercizio provvisorio, perché il rischio dell'esercizio provvisorio si è prodotto perché la legge di bilancio è arrivata in aula vera il 20 dicembre. Se loro si fossero messi a lavorare sulla legge di bilancio per tempo, cioè a settembre, invece di fare i gradassi, si fossero messi a lavorare con l'Europa dicendo, noi vogliamo fare queste cose, queste sono risorse disponibili, che cosa si può fare in modo razionale. Loro invece hanno voluto andare sul balcone di Palazzo Chigi con i parlamentari, con le bandiere sotto il palazzo e naturalmente hanno buttato via due mesi e mezzo, tre mesi di tempo che sarebbero stati preziosi, tra l'altro non in modo gratuito, perché l'aver perso questi mesi di tempo e aver fatto quelle smargiassate ci è costato qualche miliardo di maggiori interessi sul debito pubblico, perché ricordate che lo spread è salito a 335, le nostre aste dei nostri titoli pubblici sono andate molto male, con dei rendimenti tra l'altro molto alti che comunque dovremo poi pagare in termini di maggiore interesse del debito pubblico. Quindi un disastro da questo punto di vista. Io, sebbene sia il 31 di dicembre e in questi casi si tenda a essere ottimisti e a dire che sarà un anno meraviglioso e di lasciarci alle spalle l'anno vecchio, io devo dire che sono in realtà piuttosto preoccupato. Sono preoccupato, guardate, non soltanto per la sostanza delle cose, ma anche per la forma delle cose, perché il nostro paese è diventato irriconoscibile. Io sono preoccupato dal linguaggio, dai linguaggi che si sentono, da questo linguaggio così spinto che il Movimento 5 Stelle, ma anche la Lega, utilizza le loro forme di comunicazione, che sono forme di comunicazione che parlano sempre alla pancia, delle persone che cercano di esasperare i conflitti. Ne abbiamo avuto un esempio ancora ieri. Ricordate che sul blog del Movimento 5 Stelle è uscito questo post, poi frettolosamente cancellato, nel quale ci davano dei terroristi. Ma questo è proprio il loro modo di fare. C'è proprio un degrado, un peggioramento della qualità della nostra democrazia, un peggioramento proprio della qualità del nostro debito pubblico, della civiltà dei rapporti tra le parti politiche, un disprezzo delle regole costituzionali, del concetto dell'importanza dell'opposizione per una democrazia sana, dell'importanza della libera stampa, come dicevo all'inizio, che serve a fare in modo che i cittadini si facciano un'opinione, che quindi la democrazia non sia soltanto il rito del voto, ma che sia anche la possibilità per ciascuno di farsi pienamente un'opinione attingendo a fonti e a dati veri, genuini, a una stampa critica che dia al cittadino lo spirito critico per farsi un'opinione e poter quindi votare in modo consapevole, non in un modo meccanico. Allora, tutto quello che stanno facendo, penso anche appunto al disprezzo per il Parlamento, dicevo, alla proposta di riforma costituzionale Fraccaro, che vuole introdurre il referendum su tutto, appunto, come dico sempre io, un po' come si fece per scegliere tra Gesù e Barabba, ma poi anche il linguaggio, il linguaggio di Salvini, il razzismo, diciamolo chiaramente, che è stato sdoganato, per cui, come dire, siamo un po' a rutto libero, no? Forse tanta gente pensava certe cose, ma un tempo non si portavano in società, no? Non si potevano dire, non si potevano, magari si pensavano nel proprio cuore e uno però si vergognava di dire certe cose. Oggi invece non ci si vergogna più, è diventato mainstream, è diventato di moda. Infatti, una delle cose delle quali io sono più grato al presidente Mattarella è stato di aver fatto ufficiale all'ordine, all'ordine, all'ordine della Repubblica Italiana, della signora Rosaria. Ve la ricordate? Quella signora che aveva difeso quel ragazzo sulla circunvesuviana che era stato aggredito da un energumeno e la signora Rosaria gli aveva detto questa frase che secondo me dovrebbe andare scolpita nel marmo nelle prefetture del nostro paese dicendo tu non sei razzista, sei stronzo. Ecco, io ripeto testualmente, questa frase ha meritato alla signora Rosaria, che credo si chiami Maria Rosaria Coppola, il titolo di ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Mi sembra, come dire, una cosa della quale bisogna ringraziare il presidente Mattarella perché la signora Rosaria quando le fu chiesto per quale motivo aveva difeso quel ragazzo ha detto perché io non ci sto a vivere in un paese razzista ed è, come dire, musica, no? Per le mie orecchie perché io penso che con questo governo abbiamo perso proprio il senso della gentilezza dell'avere rapporti urbani, dell'avere rapporti corretti l'uno con l'altro, abbiamo perso il senso della competenza, no? C'è quasi un orgoglio, un orgoglio dell'incompetenza, un orgoglio dell'ignoranza, è il governo che parla al popolo e pensa di assomigliare al popolo perché utilizza persone appunto come Barbara Lezzi, come la Castelli, come Toninelli, gente alla quale probabilmente non dareste neanche in affidamento il vostro gatto, io certamente i miei gatti non glieli darei, e che sono incompetenti e orgogliosamente incompetenti. C'è proprio una prosopopea dell'ignoranza perché io sono incompetente, assomiglio al popolo. E ci si sbaglia perché il popolo non è così. Il popolo appunto è rappresentato dalle persone che ha scelto Mattarella per le sue onorificenze, persone normali che hanno dimostrato nella loro vita quotidiana la grandezza che molti italiani hanno. E il popolo quando gli vengono attribuite delle responsabilità studia. Il Parlamento è stato storicamente pieno di tanta gente che non aveva titoli di studio, ma che studiava per essere all'altezza di quella responsabilità. Perché una volta che si entra nelle istituzioni bisogna elevarsi al ruolo che si è ottenuto e che non ci ha ordinato il medico. Nessuno ci ha ordinato di fare il parlamentare o il ministro, ma se diventi parlamentare o ministro puoi avere anche la quinta elementare. Devi studiare perché devi onorare quel compito che ti si è andato a prendere. Invece qui, invece di elevarsi alle istituzioni, si abbassa il livello delle istituzioni al proprio livello. Ed è un danno gravissimo perché un danno che resta poi, come dire, resterà, diventerà strutturale probabilmente. Questo dispiace moltissimo. Non è soltanto una tendenza italiana perché ogni volta che io guardo, vedo in televisione la faccia di Donald Trump mi chiedo come sia stato possibile tutto questo e come sia possibile che viviamo in un mondo così. Qualche volta penso di essere diventato vecchio, di essere un figlio della caduta del muro di Berlino, un figlio dell'elezione di Barack Obama e forse il mondo è cambiato e io non mi ci raccapezzo più. Ma insomma l'obiettivo è quello di provare a rimetterlo in carreggiata. Se devo fare un augurio a tutti voi, a parte naturalmente gli auguri per la vostra gioia e serenità personale a voi e naturalmente alle persone alle quali volete bene, se devo fare un augurio al nostro paese è che riusciamo a rimetterlo in carreggiata e riusciamo a farlo ritornare a un paese normale, un paese che cerca di lavorare sulle proprie eccellenze e che non dimentica le persone chi è più debole e anzi si utilizza i propri punti di forza per sostenere chi non ce la fa. Un paese appunto più gentile, più educato, più... nel quale il rutto non è libero, ecco, dove se si pensano delle cose negative, brutte e violente si viene circondati dalla riprovazione generale e non dall'applauso dei media e dei commentatori come succede oggi che quando qualcuno dice una parolaccia si fa come si fa con i bambini a casa e gli si dice guarda che in questa casa queste cose non si dicono. Ecco, dovremmo avere per il nostro paese lo stesso amore che abbiamo per casa nostra e quando Salvini o Di Maio o Di Battista dicono cose del genere bisognerebbe dirgli vai a letto senza cena perché in questa casa queste cose non si dicono. non è così speriamo sia soltanto una brutta parentesi e speriamo quindi di riuscire a tornare quello che siamo un paese operoso un paese importante un grande paese un paese conosciuto e amato in tutto il mondo per la sua propria capacità di produrre bellezza e di produrre qualità. Questo è il mio augurio per il paese e ci metterò tutto l'impegno avete forse visto che quando intervengo alla camera non mi tiro indietro nel dire le cose che penso e sostanzialmente quello che penso e diciamo il sentimento mi viene da questi pensieri che sto condividendo con voi però mi fermo perché voglio lasciare gli ultimi secondi diciamo non alla politica appunto ma alle questioni più personali e davvero augurare a ciascuno di voi individualmente ci sono alcune persone che vedo Graziella Mantovani alcune persone che mi hanno seguito in queste dirette di quest'anno con una pazienza e una costanza incredibili che probabilmente non merito però ecco a tutti voi vorrei augurare davvero ogni prima di tutto un 31 sera un 31 notte sereno tra l'altro visto che a Sydney è già capodanno quindi un pezzo del mondo si è già portato avanti che sia una bellissima serata una serata divertente nella quale possiate appunto stare con le persone alle quali volete bene che sia una serata indimenticabile ma soprattutto che sia un 2019 sereno riparato dagli eventi negativi e che sia un momento di gioia e soprattutto di realizzazione personale sia un anno che vale la pena di vivere io mi fermo qui per domani non penso di essere in diretta perché l'augurio per una buona serata vale anche per me però voglio davvero ancora farvi gli auguri anche a nome di Federico mio marito che sono sicuro che mi ascolta dall'altra stanza che si associa e quindi davvero davvero auguri di un eccellente gioioso e amorevole 2019 a ciascuno di voi ciao